Ecco come utilizzare un codice sconto online. Scegli lo spettacolo e clicca sul pulsante Acquista. Seleziona la data per cui vuoi acquistare uno o più biglietti. Inserisci nell'apposita sezione il codice sconto. Per utilizzare un codice sconto, però, devi accedere al tuo profilo. Clicca quindi su Login e inserisci le tue credenziali. Clicca su Accedi. Inserisci il codice sconto e clicca su Invia per attivarlo. Ora seleziona il tuo posto. Vedrai comparire automaticamente la tariffa legata al codice sconto che hai inserito. Aggiungi uno o più posti. Una volta terminato l'ordine, vai al carrello. Qui troverai il riepilogo dei posti selezionati. Clicca su Paga e concludi l'ordine. Riceverai i biglietti via e-mail. Per altre informazioni contatta la biglietteria.